Mercoledì 13 novembre alle 20.30 a Gorno presso il polo scolastico di Via Madonna presenteremo il nuovo corso di formazione per i volontari della Croce Rossa Italiana. Per accedervi basta avere compiuto i 14 anni, la partecipazione è totalmente gratuita e senza vincolo nel senso che in questa prima serata illustreremo un attimo quello che è il grande mondo di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presenteremo infine anche quello che sarà lo svolgimento del corso. E questo corso è sicuramente importante per tutti i cittadini di Gorno, non solo. Sì, come amministrazione siamo ben lieti di poter ospitare a Gorno questo corso di formazione per volontari di Croce Rossa Italiana che include anche un corso di primo soccorso. La collaborazione con la Croce Rossa Italiana è da più di un anno con cui stiamo collaborando con questa importante realtà e ha interessato diversi aspetti. Da prima aspetti di assistenza durante specifiche manifestazioni, si è poi concretizzata con interventi specifici ad personam gestiti dall'Ufficio Servizi Sociali del nostro Comune per interventi di assistenza socio-sanitaria. Ed infine siamo arrivati a realizzare anche questo corso di formazione che è molto importante per la nostra comunità sotto diversi aspetti. Mi piace solo ricordarne uno che credo sia uno dei più importanti ed è il valore aggiunto di una comunità che conosce una realtà come quella di Croce Rossa con i suoi principi, con i suoi ideali e di una comunità che si approccia anche a conoscere quelle che sono i protocolli, i meccanismi per poter operare in condizioni sanitarie critiche. Io penso, pensiamo per esempio, al valore aggiunto che ogni persona della nostra comunità può avere nel sapere che il vicino di casa, un parente, un conoscente sa operare correttamente in condizioni sanitarie critiche come può essere che ne sono un arresto cardiaco o qualsiasi altra condizione sanitaria o un incidente o qualsiasi altra condizione che può intervenire. Una collaborazione con la Croce Rossa italiana che è andata via via intensificandosi e a fine mese andremo a formalizzare questa collaborazione anche con delle importanti novità. Non ci anticipa nient'altro? Vedremo a fine mese.